Sono giornate di ringraziamento per i politici blei usciti vincitori dalla difficile tornata elettorale di domenica e lunedì. L'unico al secondo mandato è il deputato nazionale del PDL Nino Minardo che guarda le prossime amministrative e annuncia un impegno ancora più forte per mettere mano a proposte serie. Dalle regionali di ottobre il dato provinciale ha visto raddoppiare il nostro consenso grazie all'abbandono del partito da parte di alcuni generali appartenenti a una classe dirigente che abbiamo ereditato. A favore di un nuovo patto generazionale ha commentato Minardo. È stata una campagna elettorale basata sui temi dell'emergenza politica e delle priorità per fare ripartire il paese ha dichiarato la neosenatrice del PD Venerina Padua. Siamo animati da grande fervore e guardiamo avanti con la consapevolezza dei nostri mezzi. Sono disponibili ad accogliere le istanze del territorio per farmene portavoce in ambito romano. E poi il Movimento 5 Stelle, l'unico a poter gioire in questo momento di tribolazione per tutti i partiti tradizionali e che ha piazzato a Roma la giovanissima isficese Maria Lucia Lorefice. Quello degli italiani è un voto convinto e libero che dimostra come sia possibile coinvolgere la gente grazie al lavoro degli attivisti, scaturito dall'amore per il rinnovamento e il bene del paese. Ci ridurremo subito lo stipendio, rinunceremo ai privilegi e ai rimborsi elettorali, annuncia già Lorefice. Ci sono persone che non arrivano a fine mese, disoccupati, anziani, disabili. Loro sono le priorità. Infine la sorpresa che arriva da Napoli dove Giovanni Mauro, ex coordinatore provinciale di Grande Sud è stato eletto tra le file del PDL e torna a Palazzo Madama. Il livello di degrado raggiunto a Ragusa mi sembra insopportabile, commenta dalla Campania. Ci vogliono scelte importanti per la nostra terra e io sono pronto a impegnarmi.